Where Have All The Flowers Gone intonava una vecchia canzone pacifista in ricordo di quella lezione della storia che gli uomini non apprendono mai abbastanza la guerra. Tutti conoscono i cimiteri dei campi di battaglia con le spianate di croci bianche senza foto. Adesso alcuni volontari hanno deciso di dare un volto ai caduti del cimitero americano nella città olandese di Margroten. Il progetto Face of Margroten è dello storico Sebastian Vonk. Quando parlo con gli americani hanno la sensazione che probabilmente la guerra è stata dimenticata. Poi vedono tutto quello che accade qui da noi. Sai, risale a 75 anni fa, la gente ricorda ancora, non si sono dimenticati dei loro uomini. Ciò che vediamo sempre quando riceviamo delle risposte è una profonda gratitudine. Quello che Sebastian fa mettendo una foto su ogni tomba, cioè un volto, è che ogni individuo non viene più dimenticato. È semplicemente fantastico vedere il pensiero, la creatività, l'iniziativa che lui e la sua organizzazione esprimono, sostiene l'ambasciatore statunitense in Olanda. In questo progetto tutto diventa così presente, tanto che ha creato, secondo me, un'opportunità incredibile per la nostra famiglia, spalancando un orizzonte pieno di interrelazioni. È veramente incredibile, ammette la discendente di un sergente dell'esercito statunitense. Il progetto è un modo per continuare a ricordare e rinnovare la gratitudine alle forze alleate che hanno liberato i Paesi Bassi dopo anni di brutale occupazione nazista.